Professore Alfonso Di Costanzo che poi è il padre di questo progetto, è PD rivolto agli anziani. Sì. È stata una bella intuizione. Direi di sì. Diciamo che non ancora sappiamo con esattezza come e perché l'attività fisica funziona e gli studi clinici randomizzati, controllati, fin qui effettuati, sostanzialmente hanno dato un po' dei risultati contrastanti, per cui abbiamo deciso di dare anche noi il nostro contributo. Abbiamo cominciato lo studio qualche anno fa e abbiamo raggiunto circa mille partecipanti a questo studio. Una parte di questi partecipanti va in palestra, alla palestra del CUS, un'altra parte invece non fa attività fisica e costituisce un po' il gruppo di controllo e stiamo vedendo un po' quali sono le differenze nelle funzioni cognitive e non solo tra questi due gruppi. E al momento stiamo vedendo che per esempio sicuramente l'attività fisica fatta in una certa maniera migliora alcune funzioni cognitive, in maniera particolare la memoria e le capacità attentive. Parallelamente a questo stiamo facendo comunque tutta una serie di altri studi perché stiamo cercando di capire anche come e perché la demenza in generale, la malattia di Alzheimer in maniera particolare si sviluppa. Abbiamo ottenuto dei buoni risultati, sono dei risultati ancora preliminari, devono essere ovviamente ulteriormente validati. Io sinceramente penso che meritiate veramente attenzione proprio per questo motivo perché avete inserito in un progetto universitario, quindi con un patrocinio anche importante, avete inserito questa problematica dell'anziano riferito intanto al fisico ma anche alla mente perché alla fine, voglio dire, c'è anche un aspetto socializzante perché quello che poi alla fine uccide veramente probabilmente è la solitudine. Sicuramente questo, in realtà ci sono tutta una serie di studi che ci dicono che per prevenire la demenza, in maniera particolare la malattia di Alzheimer, ma in fondo il discorso vale un po' per tutte le altre malattie neurodegenerative, è importante l'esercizio fisico, è importante il controllo di tutti i fattori di rischio cardiovascolare, quindi l'ipertensione, il diabete, l'obesità, ma è altresì importante anche l'esercizio cognitivo, l'impegno sociale e anche la dieta. Infatti adesso, quest'oggi, presenteremo un programma computerizzato, è un questionario computerizzato che sostanzialmente delinea un po' quelli che sono gli aspetti nutrizionali di ogni singolo partecipante e dà dei consigli su come migliorare la dieta, l'alimentazione, cercandola di avvicinarla il più possibile alla dieta mediterranea, che sembra essere questo, avere un effetto protettivo nei confronti delle demenze, in particolare dell'Alzheimer. Grazie.